Allora, buonasera, sono le 19.35, sono a Lisbona, vedete dietro di me che c'è gente, ci sono turisti, negli mezzi sono aperti, hanno appena dato il gate per il volo per Malpensa, quindi non è affatto vero che l'aeroporto è spianato, spianatissimo. La situazione che ho visto io in pratica è un aeroporto magari a metà, ma no, qua c'è gente, manca un terzo della gente, quindi è un aeroporto a due terzi del traffico. I negozi sono aperti, quelli in aeroporto, guardate, la gente c'è tranquillamente, parte evidentemente questi ultimi giorni è ripreso il traffico aereo, quindi fare video che dicono che l'aeroporto di Lisbona è spianatissimo non è corretto, perché la gente c'è e parte e torna in Italia in questo caso. Buona continuazione.